Come ottenere così Doom Eternal su Prime Gaming? Ovviamente in descrizione ti ho lasciato così la pagina di Prime Gaming, tu accendi con il tuo account Amazon, quindi su Prime Gaming accendi, scendi fino a giù fino a trovare così la categoria dei giochi, scendi fino a giù fino a trovare il gioco Doom Eternal. Ovviamente l'hanno regalato, quindi su Amazon l'ha regalato ed eccolo qua, l'ho riscosso così il 13 di ottobre, questo qua è il mio codice da inserire direttamente su Microsoft Store, quindi vado così a copiare questo codice, faccio copia, vado su Microsoft Store, vado direttamente su Microsoft Store, app, le mie app, oppure la mia raccolta qua sopra, clicco qua su il profilo, riscatta codice o carte regalo, emetti il codice di 25 caratteri e faccio CTRL V, faccio avanti ed eccolo qua, Doom Eternal Standard Edition del PC e faccio conferma. E faccio chiudi ed eccolo qua, ora ho Doom Eternal, su il mio Microsoft Store ed eccolo qua. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!